Eccoci di nuovo insieme per una lezione di filosofia all'aperto. Oggi ritorno su Platone e in modo particolare sull'immortalità dell'anima, che è un pilastro del platonismo. Tutta la teoria delle idee poggia sull'anima immortale, poggia su un'anima che vive alla morte del corpo, che sopravvive alla morte del corpo e che compie questo viaggio dal mondo delle cose al mondo delle idee. Di anima Platone parla in diversi dialoghi, ma è sicuramente nel Fedone il dialogo della maturità più amato poi dalla filosofia cristiana che Platone tratta, sviluppa in maniera approfondita il tema dell'anima e il tema dell'anima immortale. In modo particolare in questa lezione, in questo video, mi soffermerò sulle dimostrazioni dell'anima immortale. Cioè, mi soffermerò sulle dimostrazioni che all'interno del Fedone Platone adduce a sostegno della tesi dell'immortalità dell'anima. Perché se, come sostiene nel Fedone Platone, la vita è un momento di passaggio, la vita è un momento di attesa verso la liberazione dell'anima che dal mondo delle cose potrà andare al mondo delle idee, cioè l'anima passerà dal mondo dell'apparenza, al mondo della realtà, dell'essere che è, se è vero che per Platone questa è la vita sulla terra, nel cosmo, nel mondo delle cose, allora è indispensabile soffermarsi su quest'anima immortale. Perché se è vero che questa vita è un passaggio, è altrettanto vero e indispensabile che l'anima appunto sia immortale. Ecco dunque che il futuro Agostino De Ippona con la sua teoria dell'anima immortale e che potrà conoscere il bene quando l'uomo finirà questo pellegrinaggio, questo pellegrinare sofferente nella valle di lacrime, cioè nel mondo terreno. Ecco dunque che c'è un chiaro richiamo da parte di Agostino alla filosofia platonica e in modo particolare al Fedone. Dunque l'immortalità dell'anima è uno dei pilastri del platonismo. Tutta la teoria dell'idea poggia sull'anima immortale, sulla teoria dell'anima immortale e dunque c'è un recupero della metempsicosi pitagorico-orfica. E Platone è profondamente un pitagorico, è un metafisicamente pitagorico, lo sa anche matematicamente, perché poi il mondo delle cose è un mondo matematico perché è una copia del mondo dell'idea e il mondo dell'idea è un mondo di valori, di giusto, di bene, di bello, ma è anche un mondo di matematica. Dunque gli archetipi, i modelli perfetti della matematica sono l'originale, sono appunto la causa del mondo copia delle cose. Ma vi dicevo che nel video di oggi, in modo particolare, voglio soffermi sulle dimostrazioni. Non si tratta di dimostrazioni scientifiche, non si tratta di dimostrazioni empiriche, si tratta di argomentazioni filosofiche, si tratta di argomentazioni di stampo logico-metafisico e si tratta di argomentazioni che a lungo hanno anche accompagnato i sostenitori dell'anima immortale, tutti coloro che sostengono che alla morte del corpo sopravviva qualcosa di immutabile, di eterno, sopravviva appunto un elemento unico, semplice ed immutabile, dunque a differenza dei materialisti come Democrito e poi il futuro come Epicuro, che invece sostengono che l'anima sia in maniera indissolubile legata al corpo e con la morte del corpo muore l'anima. L'anima in questo caso dunque è una sorta di coscienza che muore con la morte del corpo, addirittura poi per Democrito l'anima è atomica, è fatta di atomi, è un'anima materiale, è un'anima fatta di atomi caldi, dunque di atomi leggeri, più dunque leggeri che tendono verso l'alto rispetto all'anima, rispetto agli atomi che compongono il corpo, che sono invece atomi freddi. Ma veniamo appunto alle dimostrazioni, sono tre le dimostrazioni, sono presenti appunto nel Fedone, come ho detto in altre video lezioni, il Fedone ha una struttura narrativa molto originale e anche molto molto affascinante. Fedone racconta ad un amico che Ecrate è l'ultima ora di vita di Socrate, quando Fedone incontra, dunque Socrate in carcere, ma anche Fedone è in carcere, dunque un incontro tra carcerati. Socrate è stato condannato, la seconda sentenza lo ha condannato all'appena di morte, dunque Socrate è in attesa di ingerire la cicuta, una morte nobile, una morte che veniva comunque riservata alle personalità pubbliche, alle persone degne e onorabili. E il racconto dunque del Fedone, il dialogo del Fedone è un racconto del racconto, cioè Fedone racconta ad Ecrate quanto Fedone ha detto a Socrate e quanto soprattutto Fedone ha ascoltato da Socrate. Il dialogo in attesa della morte tratta appunto il tema della vita, il tema della morte, il tema dell'anima e c'è la teoria di Platone della vita come preparazione filosofica alla morte e del corpo come prigione dell'anima. E all'interno di questo dialogo abbiamo le dimostrazioni, perché se la vita è un passaggio in attesa del viaggio dell'anima verso il mondo l'idee, se il corpo e la vita sono delle prigioni in attesa della liberazione, allora quest'anima dovrà librarsi, dovrà viaggiare, ma dovrà certamente essere immortale. Sono tre dimostrazioni. La prima è la dimostrazione detta per contrarietà, cioè della generazione del contrario dal contrario. Tutto nel mondo, tutto è retto da una sorta di dialettica vita-morte, tutto è retto da una dialettica degli opposti, e qui c'è un recupero dunque del pantarei di Eraclito, cioè dall'umido si genera il secco e dal secco si genera l'umido e così il dolce dal salato, il salato dal dolce, la malattia dalla salute, la salute della malattia. E poiché tutto è sottoposto a questa dialettica del contrario, lo sarà anche la vita e la morte, lo saranno anche la vita e la morte. Così dalla vita si genera la morte e dalla morte si genera la vita e così dunque dovranno sussistere le anime dei morti per rigenerarsi. Le anime dei morti, siamo verso il verso 14esimo, dal 14esimo al 17esimo, in questi versi del Fedone, Platone ci dice proprio la vita si genera dalla morte, la morte si genera la vita e dovranno sussistere le anime dei morti per rigenerare la vita, un ciclo continuo vita-morte, morte-vita, che ovviamente poggia sull'immortalità dell'anima. La vita nasce dalla morte e così la morte va alla vita perché c'è un filo rosso che le congiunge, che alimenta il ciclo, e questo filo rosso è appunto l'anima, l'anima immortale. Seconda dimostrazione, sono tre, anche questo caso, siamo dimostrazione filosofica ed è la dimostrazione detta anche per reminiscenza, della reminiscenza. Nel Menone Socrate ci ha detto che la conoscenza è reminiscenza, cioè ricordare, anamnesi. Noi ricordiamo quanto la nostra anima ha già conosciuto il mondo delle idee e dunque per poter ricordare è indispensabile che ci sia un'anima immortale. E questa dimostrazione su cosa poggia? Poggia proprio sull'idea della conoscenza. Noi conosciamo le cose, conosciamo, cioè le giudichiamo proprio perché ricordiamo degli archetipi che prima la nostra anima ha già visto, cioè degli archetipi che noi possediamo. Ma se questi archetipi li possediamo, se questi modelli li possediamo vuol dire che la nostra anima li ha conosciuti in precedenza e li ha portati poi dentro al nuovo corpo in cui si è reincarnata. Ecco dunque che quando noi conosciamo, cioè giudichiamo e diciamo bello, giusto, non giusto, non bello, diciamo è rettangolare, è più grande, è più piccolo, è alto, è più basso, quando noi giudichiamo giudichiamo in base a dei valori di giustizia, di bellezza, di bontà, giudichiamo in base a delle forme, il cerchio, il quadrato, in base a dei generi, maschio, femmina, uomo, cavallo, cane, e queste forme, questi valori, questi generi, questi nomi delle cose comuni, noi li possediamo dentro come modelli che utilizziamo per comparare in maniera comparativa, ma se possediamo questi modelli è perché la nostra anima li ha conosciuti nell'aldilà, nel mondo delle idee, ecco dunque che la conoscenza come reminiscenza è un'argomentazione a favore dell'anima immortale, noi conosciamo, cioè ricordiamo, comparando, ma compariamo il mondo delle cose con degli archetipi che possiede la nostra anima che ha conosciuto nell'aldilà, nel mondo delle idee, per farciò la nostra anima deve essere immortale. Queste argomentazioni sono presentate appunto da Platone nel Fedone dai versi il diciottesimo fino al verso ventitresimo. Abbiamo una terza argomentazione, la terza dimostrazione dell'anima immortale, questa terza dimostrazione è detta anche dell'immutabilità delle cose o anche della somiglianza tra anima e idee. Le cose immutabili, le cose semplici secondo Platone perdurano sono le cose composte anche qua c'è un recupero di Anasagora il teorico dei semi un recupero anche di Democrito che è odiato da Platone però c'è l'idea che o un recupero di Empedocle la teoria delle quattro radici c'è un'idea di fondo che le cose composte le cose dunque articolate appunto divengano proprio perché sono composte questi composti sono mobili e noi uomini ad esempio sono dei composti allora invecchiamo mutiamo ci ammagliamo cresciamo invecchiamo dunque il mutamento è tipico delle cose composte il pantarei è tipico delle cose composte deve anche Eraclito perché? perché vi è una legge universale che porta tutte le cose della natura del mondo ad evolvere e a mutare secondo Platone le cose composte articolate mutano cambiano invece le cose semplici sono unitarie e sono immutabili e l'immutabilità rimanda all'eternità e cosa c'è di unico e di immutabile? Cosa c'è di così semplicemente perfetto? c'è il mondo delle idee ci sono le idee che sono spirituali e cosa c'è di simile alle idee spirituali? L'anima l'anima non è materiale l'anima è spirituale pertanto l'anima spirituale assomiglia alle idee anch'esse spirituali le idee sono semplici l'anima è semplice le idee sono unitarie in sé diverse tra di esse ma unitarie in sé e così l'anima è unitaria ed è semplice in questo modo ne possiamo dire che le anime e le idee si assomigliano immortali le idee immortali le anime l'immortalità è data dalla semplicità e unicità appunto delle idee questa terza argomentazione è presentata da da Platone sempre nel Fedone nei versi che vanno dal ventiquattresimo al ventinovesimo e questa teoria dell'anima ci riporterà poi nel Fedro a parlare di come l'anima conoscerà il mondo e le idee l'anima è spirituale l'anima non è materiale non è sensibile e dunque la conoscenza del mondo e delle idee nel viaggio narrato con il mito della bigalata avverrà non per sensibilità non in modo empirico ma avverrà per intelligibilità cioè l'anima conosce il mondo dell'idea attraverso una visione intellegibile la visione intellegibile del mondo dell'idea compiuta dall'anima dell'uomo e l'anima dell'uomo eterna compierà eternamente questo viaggio all'infinito questo viaggio e in questo ciclo di anime e corpo e anime e corpo mondo dell'idea mondo delle cose vi è un arricchimento costante della conoscenza e un arricchimento costante della possibilità dell'uomo di edificare vite belle e di edificare mondi giusti a patto però che l'uomo educhi la propria anima in vita ad ammirare la bellezza ad ambire la giustizia perché si va alla ricerca della bellezza se si ambisce la bellezza si va alla ricerca della giustizia se si ambisce la giustizia dunque quelle anime mediocre non avranno come dono come possibilità il librarsi l'elevarsi alla bellezza del mondo delle idee di edificio